Ciao, mi chiamo Manuela, ho 21 anni e vengo da Roma. Io sono pasticcera. Questa passione me l'ha trasmessa mia nonna. Ho scelto di fare la scuola alberghiera, ho lavorato in laboratori di pasticceria e in un ristorante. Lì ho trovato la mia passione vera e propria, quello di fare dolci particolari. Io non ho un dolce preferito perché non amo i dolci, però amo rendere felice la gente. Io sono specializzata soprattutto a fare dolci al cucchiaio. Il mio progetto più grande è lavorare nei ristoranti più importanti del mondo e allo stesso tempo viaggiare. Quello che provo e che penso è rendere felice la persona il più possibile. Impegno al massimo a fare il dolce il più buono possibile. Quando vado al ristorante la prima cosa che guardo è il dolce. Mi piace sperimentare anche se sono ancora agli inizi della mia carriera. È un mondo dove c'è tanto da imparare e spero di migliorare sempre di più. C'è tanta gente a cui non piace avere le mani sporche di farina, di impasto. Invece è la cosa che amo di più. Questo è un semifreddo allo yogurt con coulis ai frutti di bosco e mousse al cioccolato. Ciao, grazie Glamourise!